però è sempre possibile vederlo all'interno della manifestazione cinema in festa a questo punto parto dall'ultima domanda della precedente recensione questo film ovvero hitman killer per caso vale tre euro e cinquanta il titolo ok vale tre euro e cinquanta di biglietto per me sì per me no ok iniziamo già così sia chiaro che appunto vedere il film insieme è un film che io vedrei su netflix quando uscirà è un film infatti prodotto da fino per netflix scritto e diretto da richard link later insieme a un certo glenn powell ma ne parliamo tra un po di chi è glenn powell sicuramente va fatto notare che tra per esempio un film così hitman killer per caso è stato presentato fuori concorso al festival di venezia ma recentemente abbiamo visto un film più o meno della stessa della stessa foggia si chiama ricky stanichi consigliato da gabriele neola aspetta è un po diverso è un po diverso però l'uno è su prime ci sta bene lì hitman killer per caso iniziamo subito inizio io a mettere la prima critica sul grande schermo un po ci cioè un po stride non serve non serve infatti è un film prodotto per pensato per netflix esatto diciamo che il regista richard link later è anche il regista di scuolo block e non solo boyhood no boyhood no è uno che fa queste cose queste quello far ridere ma fa anche riflette po queste cose così e partendo in questo caso da una storia che aveva anche un suo interesse diciamo parlo di questo personaggio a cui si ispira il protagonista che appunto glen powell che forse ricorderete per le powell è il l'attore sto dicendo che è il protagonista che si rifà ad una persona esistita che si chiama gary johnson ma parliamo adesso di glen powell che forse ricorderete per essere il protagonista di tutti tranne te anyone but you film romantico di cui abbiamo parlato anche qui la cui unica cosa bella è se ne sweeney allora loro sono belli belli in modo assurdo però vabbè comunque a prescindere da questo posso essere d'accordo è un film allora chi è gary johnson è la persona a cui fa qui si ispira il film la storia gary johnson è un principalmente un professore universitario un walter white siamo negli anni tra la fine degli 80 gli inizi del 90 con la storia originale un professore universitario che si trasferisce a houston nell 81 sperando di insegnare all'università di houston già siamo in posti diversi perché mi pare che questo sia ambientato a new orleans comunque vabbè e vuole insegnare psicologia non anzi vuole fare il dottorato in realtà la storia vera è questa non viene ammesso e accetta il lavoro come investigatore all'interno del distretto di polizia quindi come investigatore cioè come persona che aiuta nelle indagini qui potrei mettere la sigla di indagini nel 1989 a 37 anni invece viene buttato un pochino più in mezzo perché gli viene chiesto di fare l'hitman ovvero il finto hitman ovvero il finto sicario qual è la storia cercare diciamo di attirare le persone che vogliono servirsi del sicario quindi che vogliono uccidere qualcuno vogliono fare uccidere qualcuno per poi arrestarle fermarli prima metterci una persona un sicario finto che reciti no quella parte che prenda le informazioni che registri ovviamente le diciamo confessioni di queste persone intenzionate a uccidere e arrestarle preventivamente questa è la storia vera qual è la caratteristica di quest'uomo innanzitutto che non era non aveva iniziato con quel lavoro cioè lui voleva fare il professore voleva fare tutt'altro una persona molto diciamo ordinaria che però aveva un grandissimo talento camaleontico cioè uno che sapeva recitare fondamentalmente molto bene interpretare ruoli diversi ed essere credibile in diversi inclinazioni no della personalità umana e questo lo aiutava perché volta per volta tutte le persone che si avvicinavano a lui cercando i servizi da sicario si trovavano davanti una persona che li convinceva volta a volta diversi pare che sia riuscito ad arrestare almeno 60 persone più di 60 persone con questa tecnica questo è gary johnson morto nel 2022 e questa è l'unica cosa vera cioè presa dalla storia vera poi la storia del film di hitman evolve c'è di mezzo una storia d'amore ed è questo che me lo fa somigliare a un film di rete 4 una storia d'amore che nella nell'originale non c'è dicono che la vita di questo gary johnson sia stata travagliata a livello amoroso ha avuto tre matrimoni e una delle mogli diceva che è lui era un po un solitario che gli piaceva stare da solo non era molto socievole no nella vita e questo è anche un po quello che vuole far capire glenn paul paul interpretando gary johnson ma lì finisce la somiglianza perché poi il resto viene giustamente ricreato a livello di sceneggiatura com'è il film allora appoggiamoci su un film che di richard link later che probabilmente avete visto tutti e tutte school of rock ci sono alcune somiglianze tra school of rock e hitman inizialmente school of rock vede jack black il un rocchettaro un po fanfarone che condivide anzi ha il problema di essere buttato fuori dalla dalla casa dal signor dall'amico ned snibli ti ricordi fa anche la gli fanno anche il verso con il snibli hitman il proverso di hitman è esattamente quel personaggio ovvero un medium man totale che però appunto ha nella nell'insegnamento e nel lavoro a scuola la sua il suo fiorire il suo il suo posto nel mondo in un momento x appunto anche nel momento in un lavoro in un secondo lavoro e sappiamo anche più o meno quanto è importante per un americano fare più lavoro essere utile alla società al meglio essere utile alla comunità nel secondo lavoro viene messo in questa situazione quindi il film parte che è school of rock anche con però con un personaggio e dopo ci scusate ma significativamente meno divertente cioè tanto meno divertente sì 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 perché parte come school of rock poi diventa un film di è un film perché fabrizio mi dice che luisella non ha visto school of rock succede capita magari non l'ha voluto vedere però dicevo parte come school of hitman parte come school of rock diventa un film di woody allen e poi a un certo punto beh ci sta anche la musichetta sotto un pochino e poi diventa un film dei cohen alla fine torna ad essere un film si ma tutti questi male cioè tutti questi ma in formato televisivo sì no io non sono convinta per niente dall'altro ripeto la parte della storia d'amore che è molto prepotente nella drama molto prepotente nella drama è troppo cioè non ce ne può fregare di meno di questi che copulano in tutte le stanze di casa ma chi se ne frega vuoi far vedere quanto è bello lui e quanto è bella soprattutto lei e ci tengo a dire soprattutto lei che è molto più bella di lui che è tale adria arcona del 92 portolicana molto molto bella però ragazzi cioè voglio dimmi fatto mi compro una foto di questo non mi interessa vedere lei tutto il tempo non lo so lo trovo francamente l'ho trovato un po inutile il bello di con di raccontare i film e condividere le recensioni a più voci a quindi anche due cervelli è proprio questo cioè che si crea proprio un un non una polarizzazione 115 minuti poteva andare peggio poteva andare peggio ma poteva anche andare meglio parliamo della figaggine dei protagonisti o meglio l'unica cosa di cui si può parlare ma appunto nel ruolo del mesto medio professore tra l'altro fa ridere che all'università gli americani studiano quello che i nostri ragazzi e le nostre ragazze studiano lui insegna filosofia nel film mentre la realtà voleva insegnare psicologia glenn powell è il protagonista del film e anche il lo sceneggiatore che appunto insieme a link later si poggia su un articolo di skip hollandworth tra l'altro è lo stesso tratto da una storiella uscita dalla texas mag texas monthly che è più o meno la fonte di informazioni che tom e lee jones usava per trovare gli alieni in man in black tipo cronaca vera per gli italiani giù di lì però appunto oggi ma da oggi è uscito stefano nazi io ti dico questo ho gente vabbè la gente il il protagonista e la figaggine di glenn powell probabilmente è una delle cose che stride di più del nel racconto e la protagonista femminile appunto adria arjona io dico arjona ma non so se in portoricano si dice la cota così ci correggeranno sono veramente super belli ma è già la seconda volta che diciamo questa cosa con anche con tutti tranne te dove glenn powell aveva a che fare con sit me sweeney erano talmente belliche lui poi anche voglio dire non è neanche male come attore lui è ci sta ci sguazza in questo genere è il genere che a me personalmente fa venire proprio il latte alle ginocchia quindi non mi passa più mi sembrava veramente durasse in eterno questo film sicuramente avrà un piccolo passaggio cinema al cinema in italia tra l'altro è film della critica per appunto è sponsorizzato dalla dal sindacato dei giornalisti dei critici cinematografici quindi avrà una piccola circolazione al cinema in italia e poi arriverà a fine mese se non sbaglio su netflix in italia verrà rilasciato dal 27 giugno quindi ve ne stiamo no mi sa che l'hanno anticipato per cinema in festa ci sarà la proiezione in anteprima e potete partecipare se vi ho convinto io se invece siete più dalla parte di flavia risparmiate questi tre euro e cinquanta ma ne dovete pagare almeno altri nove per vedere qualcos'altro non è che dovete andare per forza vedere questo questa è la recensione in anteprima di hitman killer per caso una cosa che mi ha fatto veramente molto arrabbiare di questo film ma anche degli ultimi penultimo film di link later ecco se tu sei più ferrata su shamalayan detto alla capatondesca richard link later di solito aveva sempre sempre una colonna sonora fulminante qui invece proprio noiosa non ho mai avuto il la necessità di tirare fuori è proprio inutile pensata per le casse di un laptop pensata per una fruizione su netflix e quindi un ucciderio un ucciderio un ucciderio Grazie a tutti